Il doppio binario nella tratta Patti Castelbuono, si è detto più volte, non si farà perché si è preferito progettare il collegamento doppio Catania-Palermo via Catena Nuova, meno oneroso dal punto di vista finanziario. Resterà a Monco il binario sulla tratta Tirrenica, la più veloce, la migliore, la più funzionale del sistema ferroviario siciliano. All'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Nino Bartolotta abbiamo chiesto notizie su questo, tra dubbi e certezze, raddoppio, miglioramento, addirittura in prospettiva, peggioramento. Sulla Patti Castelbuono c'è uno studio, intanto diciamo che noi abbiamo chiesto a RFI e già di fatto loro devono presentare un'ipotesi di miglioramento della tratta e quindi sicuramente capire se si potrà parlare già direttamente di doppio binario o di velocizzazione della tratta esistente, perché non dimentichiamo che l'orografia di questa zona è anche piuttosto particolare e quindi prima di andare a prevedere dei progetti che poi possono diventare molto invasivi per il territorio e quindi anche andare in contrasto con quelle che poi sono le esigenze delle comunità e dei territori interessati vogliamo avere le idee chiare. Sebbene sulla tratta che collega a Palermo, quindi direzione Cefalù, quella che appunto definisce lei la tirrenica, sia previsto più un intervento di velocizzazione e di ottimizzazione, proprio dovuto all'orografia, mentre per quanto riguarda la Messina-Palermo che attraverso il centro Sicilia sono previste delle ipotesi totalmente nuove, che dovrebbero mirare all'alta velocità, io credo che la compensazione tra le due arterie possa dare poi alla fine una rete ferroviaria importante e soprattutto al passo con i tempi per la nostra regione. Quello che mi preoccupa è arrivare un domani con una rete infrastrutturale decorosa, decente e nel frattempo RFI o comunque sia il gruppo Ferrovie smobilita un po' quelli che sono i servizi. Grazie a tutti.